Il più strano, il più folle, il più pazzesco, il più tutto dei tabacchi americani, ecco voi Mr. Checkerberry Snuff, Railroad Mills, il tabacco da fiuto americano che sa di colluttorio. No ragazzi, non sto dicendo una cazzata, è proprio vero, è purtroppo anche l'unico tabacco americano che forse proprio per questo motivo ha fatto i grilli, ecco ha fatto quello che non deve fare, si è alterato purtroppo ed è un peccato. D'altra parte c'era anche da aspettarselo, ha visto le aromatizzazioni di questo tabacco, Checkerberry, senza fare reclame a prodotti farmaceutici, vi dico subito che l'odore è quello dell'Ora Septic, colluttorio che faceva testo negli anni 80-90, non so se si trova ancora, io non l'ho più visto in giro, l'Ora Septic, si è alterato e ha perso tantissimo di peso, io ne ho assunto talmente poco che la scatola è rimasta piena per tanto tempo, e adesso guardate, dopo 12 anni si è letteralmente dimezzato, si è letteralmente dimezzato, è una cosa incredibile, veramente incredibile, era pieno, l'ultima volta che sono andato a Nasarlo, qualche anno fa, si è dimezzato, neanche che qualcuno è andato a prenderlo un po' per i cavoli suoi, mettendolo in qualche scatola, in qualche bustina per fregarmene una metà, no no, posso garantirvi che, vedete è venuto fuori addirittura, non lo so, lo sciroppo, quello che ci hanno messo, l'additivo, guardate, forse quella specie di filamenti bianchi sarà quello, l'additivo, che dà il checkerberries, l'odore di colluttorio, beh vabbè, questo fra tutti i tabacchi americani originali, possiamo anche definirlo neanche a torto, la pecora nera, perché qui è stata fatta proprio un'operazione scellerata secondo me, magari forse hanno voluto coprire un tabacco di qualità non eccelsa, aggiungendovi questo sciroppo, questo medicinale proprio, non ho più neanche visto questo checkerberry in giro da diversi anni, non lo vedo più, probabilmente è stato radiato, è stato abolito, no, non è neanche cattivo, però sa proprio di medicinale assolutamente, cioè qui non si sente assolutamente il tabacco, si sente solo questo forte, questo forte afflore di colluttorio dentale, che mi fa venire anche un po' in mente, sul mito dei tabacchi americani che si possono anche mettere in bocca, non vorrei che questo fosse veramente un tabacco più da sotto guancia, non dico da mastico perché questa non è roba che si mastica, però adesso che ci penso potrebbe darsi che sia più un tabacco da sottoguancia, da gengiva che da fiuto, visto anche il sapore di colluttorio particolarissimo, checkerberry, a me non mi piace come tabacco, perché non è un tabacco, cioè un tabacco con un aroma così assurdo, voi prendete un colluttorio, mettetelo in bocca, solo per sentire il sapore avrete il sapore di questo checkerberry, più o meno, quindi è una recensione così, quasi una curiosità, Swisher International Incorporation, Whaling West Virginia, checkerberry, un tabacco dal sapore di colluttorio, un non tabacco, così se dovesse mai trovarlo da qualche parte, su qualche sito, decidete di acquistarlo, acquistatelo pure, togliete uno sfizio, non dico che non è buono da nasare, non è che morite, però ecco, c'è il serio rischio che poi rimane lì, perché non lo andate nasare, perché sa proprio di colluttorio, cioè sa solo di colluttorio, forse inizialmente sapeva anche un po' di tabacco, adesso sa proprio di colluttorio e basta, non di meno ci mancherebbe che lo butto via, anche soltanto per il disegno, la serigrafia, l'etichetta che sono sempre belle da vedere, da vedere e anche da collezionare, anche se io ho detto tante volte che non sono un collezionista. Vabbè, rilasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se volete, Sattolo Cammino da Teramo Italia vi saluta, vi do appuntamento ai prossimi video, li farò tutti gli americani, uno dopo l'altro, è poi finito e ricomincerò con tabacchi di altre nazionalità. Da Sattolo è tutto, a risentirci i prossimi video, arriviamo a 7 minuti, poi chiudo, 2 e 3.